Continua l'operato dei carabinieri forestali e dell'Accademia Kronos di Salerno, che ancora una volta pongono l'attenzione su Capaccio Pestum. Gli uomini dell'arma e le guardie ambientali hanno denunziato a piede libero il titolare di un'azienda sui Nicola, con l'accusa di illecito sbattimento di reflui zootecnici e siero di latte. Da diversi giorni veniva notata la presenza di acque biancastre maleodoranti in alcuni canali consortili, ma la conformazione della zona non dava la possibilità di rintracciare con certezza l'origine. Le ricerche però hanno dato buoni frutti. Carabinieri e guardie sono riusciti a rintracciare da dove ciò provenisse e c'è un'azienda nella quale sono allevati circa 200 suini e altrettanti bovini. Il titolare denunciato smaltiva illecitamente gli scarti dell'allevamento sui terreni circostanti dell'azienda e nello mitrofi canali di scolo privati, che dopo un breve tragitto si mettevano in un importante canale consortile, per poi raggiungere ovviamente il mare. Le indagini accurate e poste in essere dai militari dell'arma, una volta individuate le esatte modalità e le tempistiche con cui l'imprenditore smaltiva illecitamente i rifiluti, consentivano di dare il via all'operazione, che grazie al personale nascosto tra la vergetazione permetteva di cogliere in flagranza di reato l'imprenditore. Il titolare aveva anche messo a punto un sistema di tubazioni condotte attraverso il quale liberarsi, senza alcun rispetto delle leggi, dei reflui vari. Inoltre esito dell'operazione è stato il sequestro di un terreno di 1500 metri quadrati, perché interessato dallo smaltimento. Grazie per la visione!